Aspetta un attimo, ok ci siamo, siamo di nuovo live, abbiamo avuto dei problemi a livello tecnico, ridiamo la parola a Saverio che stava appunto parlando della genesi di Forza Nuova e di come sia nata con la svolta del 1995 dell'MSA, quindi prego. Sì, la trasformazione del movimento sociale in alleanza nazionale comporta come dicevo nel 1995 la nascita di un nuovo contenitore neofascista che si denominò Fiamma Tricolore, fondato questo nuovo contenitore da Pino Rauti, dentro il quale confluirono anche spezzoni organizzati precedentemente o già usciti dal movimento sociale italiano o appartenenti a formazioni che si potevano definire di destra estra parlamentare. Forza Nuova ha un primo passaggio all'interno della Fiamma Tricolore ma poi ne fuoriesce come altri nel 1997 perché è l'anno in cui si forma anche il fronte sociale nazionale di Adriano Tilger che a sua volta rompe con questo contenitore della Fiamma Tricolore. Però ecco, Forza Nuova così si chiama ma in realtà non è una Forza Nuova perché è la ridefinizione, la riproposizione di una precedente organizzazione che era stata fondata nella seconda metà degli anni 70 da un giovanissimo Roberto Fiore e che si chiamava Terza Posizione, una organizzazione che fu scompaginata da un intervento della magistratura dopo la strage alla stazione di Bologna del 2 agosto del 1980 quando sotto una forte pressione dell'opinione pubblica che chiedeva conto del perché si erano lasciati operare gruppi terroristici neri si prendono delle misure tra le altre si emettono 40 mandati di cattura nei confronti dei dirigenti soprattutto di terza posizione che in gran parte fuggono all'estero, chi in Francia e chi in Inghilterra. E chi va in Inghilterra è Roberto Fiore che attende la prescrizione dei propri reati, i processi si concluderanno con delle condanne, Roberto Fiore verrà condannato a 5 anni e mezzo per associazione sovversiva e banda armata quando lui dice in giro io sono stato condannato per le mie idee, è stato condannato per banda armata, non semplicemente come lui va asserendo per aver espresso delle opinioni o delle idee e quindi rientra insieme a Massimo Morsello che peraltro fu condannato a una pena ancora più alta e dà vita a forza nuova con questo passaggio precedente all'interno della fiamma tricolore ma è nel 97 che risbarcano in Italia alcuni dei vecchi dirigenti di terza posizione. Rimane inalterata la fisionomia dell'organizzazione e rimane inalterato soprattutto il modello storico di riferimento che è quello della guardia di ferro rumena che fu una formazione antisemita e terroristica degli anni 30 e degli anni 40 quando fecero da spalla i nazisti in Romania macchiandosi di alcune pagine assolutamente infami, tra le altre la pagina che si ricorda di più e che viene più ricordata dagli storici e quella del gennaio del 1941 quando la guardia di ferro rumena tentò un colpo di Stato, tentò di prendere il potere in Romania ed ebbe la possibilità per tre giorni di poter avere in mano Bucarest e fece quello che gli antisemiti come la guardia di ferro rumena si riproponevano e ci radunarono alcuni centinaia di ebrei al mattatoio comunale e li sgozzarono. Ci sono testimonianze terribili di questa pagina, tra l'altro l'ambasciatore degli Stati Uniti a Bucarest ma a raccontare questa vicenda fu anche addirittura l'ambasciatore tedesco a Bucarest c'erano al mattatoio comunale bimbi, bambini di 5 anni appesi ai ganci da macellaio, c'era gente decapitata cartelli appesi ai colli di questi sventurati con su scritto carne ebrea ma questa è una pagina che è stata ricostruita e anche se uno vuole farsi del male anche con fotografie che sono ancora rintracciabili dove oltre al mattatoio comunale si vedono decine e decine di corpi nudi di ebrei lasciati nei campi innevati. Ecco, il modello storico di Forza Nuova è questa formazione antisemita da cui ha cercato di copiare praticamente tutto, anche la struttura organizzativa e addirittura i nomi della struttura organizzativa perché quando uno torna dentro a Forza Nuova e risale indietro di qualche anno scoprirà che vi sono alcuni termini strani a marchiare le cellule di base, i cuib il cuib è un termine rumeno, vuol dire nido, cuiburi al plurale che erano le cellule della Guardia di Ferro che operava sul piano terroristico nei confronti degli avversari politici e nei confronti degli ebrei quindi si copia tutto, si copiano addirittura le denominazioni della presentazione alle elezioni quando si votava in Romania della Guardia di Ferro che all'epoca si presentava sotto la sigla di tutto per la patria si sono manifesti di tutto per la patria che all'epoca dei primi anni di vita di questa organizzazione furono stampati si assunse addirittura lo stesso santo protettore della Guardia di Ferro Rumeno Sant'Arcangelo Gabriele per dire noi siamo nati il 29 di settembre del 1997 giorno di San Michele Arcangelo il santo protettore della Guardia di Ferro Rumeno quindi c'è un tentativo di identificazione che è stato fatto agli albori di Forza Nuova tant'è che la stessa Corte di Cassazione ha condannato una serie di persone che avevano fatto delle querele nei confronti di chi chiamava nazifascisti gli esponenti e i dirigenti di Forza Nuova per cui sentenza del 2010, sentenza del 2011 che da parte della Cassazione ritiene legittimo il fatto di poter definire questa formazione come una formazione nazifascista c'è da dire che è tornata fuori la storia di Forza Nuova anche dopo le ultime indagini che sono state svolte su appunto la strage di Bologna del 2 agosto del 1980 perché si è arrivati a ricostruire la latitanza di quelli che all'epoca si chiamavano terza posizione a Londra e sono emersi elementi di riscontro rispetto al sostegno che costoro ebbero a Londra da parte di circoli neonazisti ma anche addirittura come si è evidenziato all'interno delle carte ultime del fatto che addirittura vi siano stati finanziamenti che provenivano da ambienti della P2 queste sono cose emerse che sono state anche divulgate in una trasmissione televisiva di report ma che sono dentro alle ultime indagini rispetto alla strage alla stazione di Bologna dove peraltro si dice che non sono stati semplicemente i nuclei armati rivoluzionari a compiere quella strage ma insieme a loro anche esponenti di avanguardia nazionale ex avanguardia nazionale come Paolo Bellini e almeno due esponenti di terza posizione Picciafuoco e Luigi Ciavardini quindi Forza Nuova ha un retroterra dal punto di vista della sua storia decisamente inquietante una formazione che quindi nasce sulle cene di un'organizzazione sovversiva e che praticava la banda armata che ha avuto intrecci e relazioni addirittura con gli esecutori della più importante e sanguinosa strage mai avvenuta nella storia repubblicana italiana quella alla stazione di Bologna Forza Nuova ha costruito attorno a sé una costellazione di associazioni collaterali molto articolata e molto ampia a suo tempo perché una parte di questi come poi dirò di queste associazioni poi sono fuoriuscite ha fatto lotta studentesca che era l'associazione dei giovani nelle scuole la Lega della Terra Solidarietà Nazionale l'associazione Vita Perón si è circondata da una costellazione di associazioni collaterali aventi lo scopo di aumentare la propria superficie di contatto certo è che però cos'è successo? che nel maggio del 2020 ha subito una scissione molto consistente non è Forza Nuova stata esente da scissioni negli anni precedenti quella che però si è consumata nel maggio del 2020 è stata una scissione molto importante perché ha portato fuori una parte più che consistente delle diverse realtà territoriali e una parte significativa del suo gruppo dirigente e quasi tutte le associazioni collaterali che erano state costruite costruite motivo di questa scissione è proprio un contrasto forte interno per via di un asse che si è determinato tra il segretario padrone perché poi in realtà Roberto Fiore è il padrone di Forza Nuova è quello che è l'anziata non semplicemente l'ha fondata è quello che ha in mano le chiavi del tesoro così lo possiamo definire il contrasto è per via di un asse che si è determinato tra lui e il gruppo dirigente romano capitanato da Giuliano Castellino un personaggio molto chiacchierato già condannato per reati comuni e con una serie di procedimenti che lo attendono peraltro ha subito una condanna recente a cinque anni e mezzo per un'aggressione a due giornalisti uno di La Repubblica e uno dell'Espresso insieme a esponenti dell'ex avanguardia nazionale questo fatto di puntare su Roma che è la vetrina d'Italia che è la capitale su un personaggio così chiacchierato e poco presentabile e poco credibile ha determinato una fortissima reazione che ha portato a questa reazione che si dice credo che si sia di nuovo bloccato il collegamento di Saverio che non riusciamo a sentire Fulvio dimmi se tu lo senti no Saverio se ci senti prova a riaccendere il microfono non penso che ci stia sentendo perché c'erano già alcune interferenze interferenze sulla sulla linea e proviamo a risolvere questo problema il più velocemente possibile di nuovo il pronto mi vedete mi sentite sì abbiamo perso qualche secondo Forza Nuova è riuscita anche a coniare una parola d'ordine che poi è diventata comune all'area del neofascismo che è quella della dittatura sanitaria che poi è diventata una sorta di riferimento comune per l'area del neofascismo italiano questo in poche battute rispetto a Forza Nuova se passiamo a Casa Pound Casa Pound ha una storia diversa Casa Pound è più recente Casa Pound è anche essa con un passaggio all'interno della fiamma trecolore ma in anni successivi la rottura viene solo nel maggio del 2008 inizialmente è una componente della fiamma tricolore poi anche qui per ragioni di contrasti rispetto agli assetti interni c'è la fuoriuscita di questa esperienza di un centro sociale di destra che si denomina come Casa Pound e che avvia un proprio circuito nazionale i riferimenti sono in un modello diverso sono quelli i riferimenti riguardano il primo movimento fascista del 1919 e 1920 è lì che Casa Pound trova ispirazione per cercare di operare nel presente e quindi è un modello diverso e a questa esperienza del 1920 guarda anche intestando le proprie iniziative e le proprie strutture organizzate faccio solo alcuni esempi la libreria di riferimento di Casa Pound si chiama Testa di Ferro era il giornale di Gabriele D'Annunzio nell'impresa fiumana del 1919 in testa le proprie sezioni la dove ci sono guardando sempre a questo periodo storico faccio anche qui un altro esempio la sezione di Cremona di Casa Pound si chiama Stoccafisso uno potrà anche guardare a questa denominazione pensando che sia un'operazione così un po' simpatica un po' trasgressiva perché i partiti democratici i lampi i partiti di sinistra spesso intestano le proprie sedi a figure nobili martiri lì invece Stoccafisso e uno ha pensato a un'iniziativa di tipo bolliardico invece le cose non stanno in questo modo perché quando vi furono dei blandi tentativi da parte di alcuni prefetti italiani per cercare di limitare lo squadrismo di quegli anni penso al prefetto di Ferrara a gennaio del 1921 posero dei divieti ripeto molto blandi uno dei quali era quello a Ferrara e a Cremona che era quello di c'era il divieto di girare coi manganelli non è che fosse una grande operazione di repressione di contenimento però ci fu questo e allora sia Italo Balbo che Farinacci a Cremona cominciarono a usare gli stoccafissi un metro e mezzo sotto sale duri come bastoni e per un po' si picchiò con gli stoccafissi e come dire Cremona la città di Farinacci vede Casa Pound guardare a quel periodo a quello dello squadrismo incipiente e cercare di come dire reintrodurlo attraverso questa denominazione quindi si fa tutto in realtà guardando a quell'esperienza pensando alla rivoluzione tra virgolette fascista come rivoluzione giovanile che scartinò il sistema pose fine ai partiti di sinistra alle idee di uguaglianza pose fine allo stesso Parlamento e quindi il modello di riferimento è quello di quell'esperienza che si cerca in un qualche modo di vedere se ha degli spazi per essere riproposta quell'esperienza a cui si aggiunge l'esperienza della Repubblica Sociale italiana perché se uno va a guardare al programma politico di Casa Pound troverà un mix tra i 14 punti del partito fascista repubblicano nato a Verona nel 1943 soprattutto i riferimenti sono al programma di tipo economico e sociale e il mix è con una serie di cose che riguardano il presente rifiuto della società multietnica sviluppo dell'industria degli armamenti adozione di armi nucleari leva obbligatoria una specie di nuovo mini cool pop della cultura dove si formano i giovani secondo delle rigi dei rigidi orientamenti di tipo culturale un programma che è stato stampato anche per quando Casa Pound ha tentato alcune avventure elettorali sul piano nazionale e sul piano europeo qual è la caratteristica però a cui bisogna guardare con attenzione rispetto a questa formazione politica che cerca uno sfondamento nelle realtà giovanili che è stato sempre il suo primo obiettivo politico e strategico vero cioè cercare di costruire un movimento giovanile di massa che alla destra non è mai riuscito nel secondo dopoguerra tranne un periodo iniziale del dopoguerra in cui era in ballo la vicenda di Trieste i movimenti giovanili e studenteschi soprattutto a partire dagli anni 60 hanno sempre avuto un forte orientamento di sinistra il tentativo è qui di invece costruire qualcosa di diverso e quindi la penetrazione nelle aree studenteschi e giovanili e in alcune città importanti segnatamente Roma all'interno del circuito delle scuole medie superiori dove in effetti Casa Pound ha avuto e ha un radicamento che noi non dobbiamo in alcun modo sottovalutare il riferimento è ovviamente a Ezra Pound da cui Casa Pound che fu come molti ricorderanno un poeta che sostenne il fascismo ammiratore del duce che finì terminata la guerra nei criminal camps fu addirittura chiuso dagli americani in un campo per i criminali fascisti e vi rimase anche per un certo periodo di tempo il riferimento è a lui e alle sue teorie antisemite in modo particolare riferite all'usura chi è che vuole approfondire queste cose c'è un librettino di alcuni anni fa che fu pubblicato dalla RAI in cui sono state trascritte parte delle cose o meglio degli interventi che al tempo del fascismo Ezra Pound faceva tramite la EIA la radio non sapendo di essere registrato dagli inglesi che registravano le sue trasmissioni poi queste registrazioni sono state poi messe su carta e un librettino della RAI di qualche anno fa ne ha dato conto dove si potrà leggere l'antisemitismo come dire pesante forte come elemento preminente delle teorie di Ezra Pound per cui quelli che gli intestano la propria impresa politica sanno benissimo chi fosse questo personaggio che cercamente certano di rendere fruibile attraverso il fatto che era un poeta un letterato che fu riconosciuto come tale anche a livello internazionale Casa Pound si muove anche in questo senso ha fatto scuola per cercare non semplicemente di rinverdire il pantheon tipico di una organizzazione neofascista ma di sfondare anche sul piano delle relazioni giovanili acquisendo figure più recenti che appartengono o hanno appartenuto al mondo della sinistra e quindi vi è un tentativo di acquisizione che è stato fatto in modo come dire sistematico si è cercato di acquisire Rino Gaetano che è stato un poeta cantautore degli anni 80 che aveva dei testi molto corrosivi della borghesia del suo tempo si è cercato di acquisire come parte del proprio patrimonio l'iridentista irlandese Bobby Sanz si sono fatte queste operazioni fino al pezzo grosso che è stato giocato con molta forza che è quello di Che Guevara cosa non nuovissima nel mondo del neofascismo a livello italiano e a livello internazionale ma la cosa interessante è la spiegazione la giustificazione del perché Che Guevara perché poi qualcuno gli ha fatto delle domande a Gianluca c'è un'intervista di tre anni fa su Playboy uno dice caspita Playboy giornale per soli uomini Playboy è una rivista come dire che vuole essere trasgressiva e che a un certo punto intervistò il capo di Casa Pound e gli fece un giornalista tutt'altro che impreparato gli fece una domanda molto netta e diretta ma perché Che Guevara che era un guerigliero comunista ecco la risposta spiega tante cose la risposta di Iannone è stata a noi non interessa che fosse un guerigliero comunista a noi interessa il fatto che fosse stato un guerigliero uno che è andato a combattere armi alla mano in una guerra già persa sapendo di rimetterci la vita come i ragazzi di Salò tra il 43 e il 45 se volete ci sono dentro delle cose che possono far sorridere ma c'è dentro in un momento storico come questo il tentativo di accapparrarsi e di acquisire nel proprio panteo una figura che è stata un'icona della sinistra perché va anche detto che nella sinistra odierna non è che sono in molti quelli che si autodefiniscono rivoluzionari e siano in molti quelli che sventono le bandiere con la faccia di Che Guevara e da destra si dice noi che siamo dei rivoluzionari tra i nostri riferimenti c'è anche Che Guevara un rivoluzionario un guerrigliero un uomo che è capace è stato di andare a combattere via un decadentismo se volete estetico da questo punto di vista ma è un'immagine suggestiva che può fare può fare anche qualche può dare anche qualche risultato se voi volete farvi poi definitivamente del male e vi leggete il primato nazionale che è la rivista di Casa Paus l'ultimo numero c'è un elogio di Antonio Gramsci Gramsci non è più un intellettuale comunista è il teorico dell'egemonia l'egemonia è ridotta tecnica di conquista del potere e quindi Antonio Gramsci è un riferimento perché può essere un teorico da studiare per come arrivare alla conquista del potere quindi tutto l'aspetto del fronte della cultura delle case matte che possono essere conquistate all'interno di una società moderna come la nostra ovviamente Antonio Gramsci non è più l'intellettuale scompaiono le sue idealità la sua visione del mondo viene ridotto a tecnica che può essere per loro usato anche da destra su Casa Pound un'ultima cosa che credo che sia importante che cioè ha un circuito finanziario per potersi finanziare che è un circuito importante che si è sviluppato attraverso soprattutto negozi di abbigliamento del marchio Pivert ve ne sono diversi in giro per l'Italia che hanno un fatturato che consente di avere un polmone finanziario per questa organizzazione si cerca da parte di Casa Pound di tenerlo separato dall'organizzazione politica perché gli affari sono affari e l'abbigliamento è l'abbigliamento per i giovani e giovanissimi che infatti frequentano questi locali senza sapere in realtà quando comprano un jeans o comprano una maglietta di finanziare un'organizzazione che è però quella l'organizzazione di Casa Pound c'è un tentativo che si sta sviluppando in questi mesi al nord di penetrazione che è quello che sta accadendo a Cernusco sul Naviglio qui vicino a Milano nell'area della metropoli milanese dove passati i diversi tentativi di insediamento che non hanno dato frutti adesso c'è un'operazione molto più consistente e seria per cui si sono trasferiti alcuni dirigenti nazionali aprendo apparentemente solo una libreria in un'area centrale di Cernusco sul Naviglio che è una cittadina tranquilla che non ha mai conosciuto come dire problemi di tensione sotto questo profilo e se ne sta facendo un punto di riferimento per avere un'espansione oltre quel territorio che è il territorio della Martesana e arrivare quindi finalmente ad avere una presenza significativa in Lombardia perché altrimenti non vi è il respiro nazionale se tu sei chiuso semplicemente e solo a Roma e quindi lì si investono soldi si investono quadri Francesco Polacchi che è il fondatore della casa editrice Altaforte la libreria sta diventando un punto di riferimento per cui si presentano dei libri dove in realtà compaiono figure che sono con con danne definitive alle spalle spesso per reati comuni che ne fa come dire un luogo anche dal punto di vista dell'ordine della cittadina un luogo pericoloso e da lì si promuovono iniziative nazionali l'ultima forse avrete letto qualcosa su qualche quotidiano l'organizzazione del festival del libro di Todi che è previsto per il prossimo giugno dove in realtà l'organizzazione è l'organizzazione che parte dalla libreria Altaforte di Cernusco sul Naviglio e Todi è in mano alle destre è stata data in una delibera possibilità sostanzialmente ad Altaforte di organizzare questa rassegna del libro questo festival del libro e basta scorrere i nomi di chi vi parteciperà per inorridire sono ultracattolici bigotti vi sono figure come Marco Gervasoni che è uno che ha dichiarato che bisognerebbe bombardare le barche degli immigrati vi è lo criminologo Meluzzi che è un islamofobico che ha provato anche lui di sbarcare in politica con improbabili liste islamofobiche e quindi ecco la questione di Cernusco sul Naviglio è una cosa non locale ma fa parte di un progetto per cercare da parte di Casa Pound di stare sulla scena politica e veniamo un po' alla scena politica di tutte queste due organizzazioni e di qualche altra c'è il tentativo di trovare un modo per poter avere un consenso che per il momento è un consenso che non è stato raggiunto perché il serbatoio elettorale dell'area del neofascismo in realtà è stato sussunto dalla Lega e dai fratelli d'Italia e quindi anche gli slogan riusciti le parole d'ordine che sono diventate trasversali non hanno portato beneficio né a Forza Nuova né a Casa Pound e quindi operazioni di mimetismo che sono attualmente in divenire Forza Nuova sta cercando di presentarsi sotto mentite spoglie ripetutamente ha fondato un contenitore che si chiama Italia Libera e un altro che si chiama Area e cercherà attraverso questa nuova sua forma di esistenza di promuovere sta promuovendo un appuntamento nazionale l'8 maggio a Roma Forza Nuova ha dato vita anche a una sorta di governo ombra abbastanza ridicolo dove si sono finite dentro alcune figure una significativa che è l'avvocato Carlo Tormina che sarebbe il ministro ombra della giustizia in Italia e poi ve ne sono anche altre francamente poco credibili un altro dei ministri è un certo Augusto Sinagra che è stato l'avvocato difensore di Licio Gelli ecco ricordatevi quando Forza Nuova tuonava contro la massoneria ma poi in realtà ecco che infila dentro personaggi che provengono da quegli ambienti aveva cercato a suo tempo un rapporto con Forza Italia di Silvio Berlusconi che era la tessera 1816 della P2 quindi è una vita di contraddizioni quella che si è sviluppata da parte di questa organizzazione la stessa cosa in termini più intelligenti la fa Casa Pound che si è che si è assunta come interlocutore i Fratelli d'Italia quindi c'è un tentativo di rapporto con i Fratelli d'Italia che sta marciando e lo dovremo vedere nei prossimi mesi se arriverà degli approdi perché una delle possibilità è quella di potersi presentare alle elezioni amministrative di Roma attraverso una lista civica volontà romana che potrebbe entrare nell'orbita dello schieramento di Giorgia Meloni detto questo quali sono i tratti comuni del neofascismo in questo momento ci sono le specificità che ho detto le storie diverse ma vi sono dei tratti in comune che noi dobbiamo saper cogliere uno è il tentativo comune da parte di tutte queste realtà di cercare di rappresentare dei pezzi di società che sono stati abbandonati dalle sinistre dai sindacati dai partiti democratici e i luoghi per poter tentare di far questo sono le periferie delle metropoli Roma ma non solo Roma e quindi cercare di sostenere diritti diritti sociali ovviamente solo per gli autotoni e per gli italiani la battaglia per il diritto alla casa nelle periferie romane condotte da Forza Nuova e Casa Pound ha questo significato sostanzialmente di cercare peraltro di costruire una specie di strategia della tensione senofoba nei confronti degli immigrati di valutare da parte di tutti questi come secondo punto che io metterei in evidenza il fatto che noi siamo in una situazione di accerchiamento in cui vi sono poteri occulti che vorrebbero sostituire addirittura il lavoratore bianco con lavoratori di colore provenienti dall'Africa e quindi vi è un'operazione di sostitutismo che volta a sradicare come dire le tradizioni culturali e religiose di questo paese e favorire quindi un cambiamento addirittura un sostitutismo della popolazione lavoratrice e quindi come conseguenza di questo il tentativo di difendere il lavoratore bianco non solo quelli delle periferie non solo i lavoratori e i proletari delle periferie ma proprio l'operaio bianco che è vessato dall'elite bancarie e finanziarie che sono in mano alle sinistre via un rovesciamento della realtà i poteri forti sono in mano alle sinistre vogliono costruire una società multiculturale e multietnica colpevolizzare il lavoratore bianco perché si difende resiste a questa trasformazione della società e quindi il tentativo di rappresentarlo poi in buona sostanza quindi questo è come dire un altro aspetto trasversale e comune da parte dell'area del neofascismo milanese che neofascista italiano che si allarga peraltro anche a delle altre formazioni che io non ho citato c'è una formazione molto forte in Lombardia che si chiama Lealtazione che nasce da una costola degli Amerskin che ha un suo centro tra Milano e Monza soprattutto a Monza che numericamente si è sviluppato come organizzazione più di tante altre più di Casa Pound e più di Forza Nuova tanto più dopo l'ascissione che ha travolto Forza Nuova e però ha come dire denominatori comuni assolutamente dello stesso tipo dello stesso segno rispetto all'insieme del neofascismo del neofascismo italiano un'ultima cosa che vorrei dire gli spazi che spazi ci sono per costoro gli spazi ci sono perché ci sono rapporti studi ricerche che sono stati fatti da istituti anche molto qualificati dal Censis a Lunaria che è un'associazione di promozione sociale degli anni 90 che ha fatto un lavoro molto interessante di monitoraggio su ovviamente quote della popolazione italiana ma significativi come dire i pezzi che sono stati assunti dove viene fuori che un terzo degli italiani questo è il rapporto di Lunaria è assolutamente disponibile a tollerare atteggiamenti razzisti e xenofobi e quasi la metà di costoro sono nelle classi popolari con anche una dislocazione geografica che vede al primo posto il centro-nord ma venire subito dopo il nord dal Veneto alla Lombardia c'è uno spazio per questo due anni fa il Censis sosteneva nella sua relazione annuale che vi era una disponibilità di il 48% degli italiani ad affidarsi all'uomo forte l'Italia ha una sua predisposizione ad affidarsi all'uomo forte all'uomo della provvidenza due anni fa un 48% era disponibile anche a rinunciare al Parlamento se ci fosse stato un uomo forte a risolvere i problemi che ci sono tenete presente che il 54% dell'elettorato italiano dell'elettorato italiano ha al massimo la licenza di terza media il 20% di questo 54% dell'elettorato ha solo la licenza di scuola elementare quindi quando noi parliamo di spazi di possibilità di consenso dobbiamo sapere del nostro paese di come è fatto come sono fatti e acculturati o meno acculturati i cittadini che si informano attraverso le tv commerciali di intrattenimento che veicolano contenuti e orientamenti tant'è che vi è un'alterazione profonda della realtà italiana da parte di moltissima parte di chi vi abita sempre il census recentemente ha fatto un'indagine sul rapporto tra il covid e le teorie cospirative le fake news e viene fuori che ci sono più di 19 milioni di italiani che credono che il covid sia stato progettato e costruito in un laboratorio cinese 2,3 milioni di persone addirittura pensano che vi sia una relazione tra il covid e la tecnologia 5G quindi quando poi guardiamo oltre Atlantico e vediamo le cose che sono successe negli Stati Uniti l'ascesa del movimento trumpista con tutte le sue teorie cospirative che possono apparire tra le più bislacche e incredibili del pianeta ecco guardate che anche il neofascismo italiano guarda non solo a dei modelli nel cuore dell'Europa l'Ungheria la Polonia ma guarda anche all'esperienza del trumpismo che per certi aspetti potrebbe presentarsi come un nuovo inedito movimento fascista con tutte le sue contraddizioni come i movimenti fascisti hanno sempre avuto ma è un laboratorio che si sta sviluppando sotto i nostri occhi da cui loro cercano anche di trarre insegnamento la scissione di forza nuova ha dato vita alla rete dei patrioti i patrioti negli Stati Uniti sono un movimento sono il movimento delle milizie contro i governi federali sono il movimento delle milizie armate sono il movimento che credono che Obama fosse nato in Africa e non fosse un cittadino statunitense sono quelli che credono che la Merkel sia un nipote di Hitler che Michelle Obama sia in realtà un uomo e ne pensano tantissime che vi sia un complotto negli Stati Uniti da parte dei poteri forti che è un mix di leader democratici di star di Hollywood e di banchieri che hanno già costruito dei campi di concentramento segreti dove tengono prigionieri milioni di bambini a noi può far sorridere questo però è una modalità con cui la politica si sviluppa e ottiene a volte consensi elevatissimi negli Stati Uniti Trump pur perdendo nelle ultime elezioni del 2020 ha raccolto 70 milioni di suffragi che è una cifra iperbolica se voi ci pensate bene ecco questo rispetto alle organizzazioni neofasciste chiudo con un'ultimissima battuta che è un tratto comune di tutte queste e del dato delle violenze perché questi sono violenti siccome monitorare le violenze non è semplice lo si può fare in termini empirici sfogliando quotidiani vedendo le denunce si può però semplicemente per questo affidarsi a dei dati istituzionali seppur non recentissimi ma dati istituzionali forniti dai ministeri degli interni forza nuova primo giugno 2017 nell'arco di 65 mesi dal 2011 al 2016 vi sono stati secondo il ministro dell'interno 240 deferimenti all'autorità giudiziaria 10 arresti il che significerebbe quasi uno alla settimana nel 2017 complessivamente inteso sempre ministro degli interni ministro Minniti ci sono state 178 denunce 6 arresti qualsiasi altra organizzazione politica avesse avuto un numero così alto di dirigenti e militanti coinvolti in episodi di violenza sarebbe stato sciolto in questo caso si potrebbe addirittura scioglierlo ricorrendo ai reati di associazione a delinquere non c'è necessità di ricorrere né alla legge Scelba né alla legge Mancino casa Pound il dato è del febbraio del 2016 ministero dell'interno dal 2011 al 2015 vi è stato un arresto ogni tre mesi e una denuncia ogni cinque giorni 359 ed è un dato vecchio perché il dato dovrebbe essere aggiornato con le ultime cifre e quindi noi ci troviamo di fronte a una realtà violenta con delle derive anche nella direzione della lotta armata di questo se ne parla poco negli ultimi due anni in Italia sono stati intercettati gruppi piccoli minuscoli che erano intenzionati a praticare la lotta armata in Italia nel solco e sulla falsa riga di esperienze analoghi francese e tedesche in Francia hanno sciolto alcune di queste organizzazioni Oiseux Noir in via di scioglimento anche se non considerato come nucleo armato Generazione Identitaire in Germania ne hanno sciolte almeno quattro semplicemente nell'anno scorso in Italia noi abbiamo avuto esperienze di questo tipo minime che sono state ritenute di tipo folcloristico l'ultima è Sole Nero che è stata una piccola realtà che si era sviluppata sul web che è stata intercettata e che ha portato al fermo e all'arresto di alcuni ma mesi prima vi era stato il partito nazionalsocialista dei lavoratori che raccoglieva armi prima ancora vi era stata un'esperienza a Siena di un nucleo 12 arresti che raccoglieva armi e progettava di fare un attentato alla moschea di Siena quindi c'è anche una deriva così come vi è a livello europeo che riguarda anche alcune frange minime di quelli che si possono definire dei lupi solitari quelli che pensano che sia arrivato il momento dell'azione diretta e che si preparano a questo scopo noi in Lombardia abbiamo una organizzazione che si chiama Comunità Militante dei Dodici Raggi che teorizza il ricorso alla lotta armata usa la svastica come proprio simbolo lo mette esplicitamente nei momenti delle sue iniziative e dice che loro sono per arrivare a fare la rivoluzione armata semplicemente non vi sono in questo momento le condizioni politiche per poterla praticare ma questo è il loro orizzonte il loro obiettivo dicono dichiarano esercitano degli atti di violenza e rimangono ancora come dire senza un vero contrasto da parte delle istituzioni che semplicemente si limita a vigilare su di loro senza procedere dal punto di vista delle leggi ordinarie che permetterebbero di disarticolare anche storie di questo genere io per il momento mi fermo qui grazie mille Saverio perché ci hai fatto davvero una bellissima cioè bellissima molto interessante panoramica su tutto questo universo dell'estrema destra che poi sicuramente ne sappiamo che conta anche altre organizzazioni non si sente un po' mi sentite Saverio mi senti? ok quindi dicevamo esistono anche altre organizzazioni di estrema destra ma noi vogliamo scusate ma io non sento niente adesso ci senti Saverio? non ci sente allora dicevo che noi ci siamo voluti fermare su Forza Nuova non ci senti allora cerchiamo di risolvere un attimo ancora questo adesso mi senti? no non ci sente e niente magari Fulvio prova a fare tu la prossima domanda che magari è un problema un problema mio mi senti Saverio? allora deve essere un problema un problema del computer deve essere allora noi ti sentiamo Saverio Sì Saverio noi noi riusciamo a sentirci tu non ci senti no immagino tu non ci stia sentendo va bene va bene va bene ok allora purtroppo stasera abbiamo questi problemi io io adesso farò la mia domanda a voce così tutte le persone possono sentirci e poi la scriverò a Saverio per capire perché possa rispondere insomma allora la nostra domanda prossima era un po' su come si può contrastare possono contrastare queste manifestazioni di fascismo sia dal punto di vista legale militante e culturale io adesso mando la domanda a Saverio vediamo se se la lui l'ha vista e ci ci può rispondere ci scusiamo per questi problemi tecnici ma abbiamo difficoltà a capire da dove arrivi no vado rispetto all'antifascismo io vorrei sottolineare alcune cose una più generale e poi rispetto alla domanda che mi fate sui consigli rispetto al contrasto alle manifestazioni fasciste la cosa in generale che volevo dire è che noi siamo in una situazione difficile e delicata in un momento in cui dobbiamo prendere atto che l'antifascismo in questo paese ha perso campo lo ha perso nelle istituzioni lo ha perso tra le nuove generazioni lo ha perso anche dal punto di vista della ricerca storica e che quindi c'è un lavoro molto importante da ricostruire e il lavoro non può essere semplicemente quello della rievocazione storica e cioè la memoria non si trasmette con la rievocazione storica la memoria la memoria si trasmette presso le nuove generazioni se tu sei in grado di produrre anche conoscenza cercare di spiegare come si sono svolte le cose davvero e parlare del presente e cioè se tu non parti dal presente non riesci neanche a trasmettere la memoria del passato tu hai bisogno non di un movimento emotivo ma di un movimento consapevole per poterlo costruire devi fare un lavoro che non è quello semplicemente del ricordo della rievocazione è proprio quello della trasmissione attraverso la conoscenza e questo non può che incrociare i problemi del presente non può che riguardare le questioni dell'oggi perché non puoi separare le due cose come se tu ti puoi tutelare semplicemente se fai un'operazione di rivalutazione del passato di ricordo e di rievocazione ma detto questo c'è una combinazione che deve essere prodotta tra la mobilitazione l'informazione e il ricorso anche premendo da questo punto di vista rispetto alle istituzioni perché certi risultati si ottengono sulla base semplicemente di ciò che è stato dal punto di vista legislativo determinato e consolidato la storia dell'antifascismo italiano ha attraversato fasi diverse da questo punto di vista in uno dei suoi momenti alti ha costretto le istituzioni a sciogliere alcune organizzazioni neofasciste nel 1973 nel novembre fu sciolta ordine nuovo perché vi era un forte movimento antifascista che chiedeva conto alle istituzioni di dare un risultato perché era un'epoca che era quella della strategia della tensione vi era squadrismo e stragi e questa cosa fu assunta nel novembre del 1973 da un ministro democristiano per quel che riguarda ordine nuovo Paolo Emilio Taviani il quale ha scritto successivamente nelle proprie memorie il fatto che bisognava sciogliere quell'organizzazione non fermandosi a degli aspetti formali perché ordine nuovo fu sciolto dopo il primo grado di giudizio in un processo che fu tenuto a Roma non si aspettò né l'appello né la corte di Cassazione e Paolo Emilio Taviani lo sostenne dicendo c'è un problema politico di allarme e di urgenza per cui va sciolta questa organizzazione la stessa cosa successe nel giugno del 76 quando fu messa fuori legge avanguardia nazionale l'organizzazione terroristica di Stefano delle Chiaie e anche qui fu fatto dopo il primo grado di giudizio senza aspettare né l'appello né la Cassazione tra parentesi l'appello e la Cassazione confermarono la sentenza di primo grado di ricostituzione del partito fascista comunque lo si fece immediatamente e il ministro che si assunse questo compito fu Francesco Cossiga non un bolcevico non un estremista di sinistra che improvvisamente è catapultato nelle stanze dei bottoni per cui come dire la mobilitazione antifascista può produrre dei risultati e costringere delle scelte perché le leggi ci sono in Italia ci sono tre leggi neanche due c'è la legge scelba la legge mancino e c'è anche un'altra legge che nessuno si ricorda che è stata votata nel 1975 dal Parlamento italiano in ottemperanza a un accordo internazionale dell'ONU che è una legge contro la discriminazione razziale che in Italia è stata usata una sola volta per punire nel 1976 un gruppo di ultra neofascisti al palazzetto dello sport di Varese che inscenò come dire delle cose vergognosissime in termini di slogan ma non solo innalzando croci bianche in una partita di basket in cui giocava il Maccabi di Tel Aviv furono individuati attraverso le fotografie alcuni dei responsabili dei protagonisti e quella legge li punì per cui di leggi noi ne abbiamo manca la volontà politica cioè non è che c'è la necessità se vogliamo di doverne farne di nuove qualcuno ci ha pensato ultimamente un po' come dire in ritardo rispetto ai tempi delle legislature perché la legge Fiano fu presentata in ritardo perché non ebbe neanche il tempo di essere approvata al Senato introduceva degli elementi nuovi che erano quelli relativi all'uso del web a quello dell'oggettistica nazifascista e quindi andava a coprire un campo che per il momento era rimasto fuori che è rimasto fuori dalla legislazione vigente adesso c'è stata questa importantissima raccolta di firme 250.000 firme se io non sbaglio promossa dal sindaco di Sant'Anna di Stazzema che è un disegno una proposta di legge di iniziativa popolare va bene riprende in parte la legge Fiano c'è da dire che nel Parlamento italiano non è mai stato discorso una legge di iniziativa popolare ne sono state fatte diverse che avevano raccolto 50.000 firme perché questa era la soglia per poterle presentare non c'è nella storia del Parlamento italiano una sola legge di iniziativa popolare che sia stata mai discussa tra le altre una che partì nel 1975 di scioglimento del movimento sociale italiano in cui vi erano firme prestigiose da terracini ad altri padri della patria per cui ci sarà anche questa cosa sarei curioso di capire chi ha intenzione di presentarla in Parlamento con la maggioranza attuale del governo che ci ritroviamo e quindi dal punto di vista legislativo io non credo molto nell'immediato che si possa arrivare a uno sbocco e a una soluzione credo che sia possibile in realtà attraverso la mobilitazione e la denuncia arrivare a far sì che vi siano delle scelte politiche perché il ricorso alle leggi è semplicemente un fatto più che possibile ci sono situazioni diverse sui territori da tribunale a tribunale da questo punto di vista vi è una confusione assoluta dal punto di vista del sanzionamento dell'apologia di fascismo vi sono sentenze opposte dentro alla corte di Cassazione vi sono state sentenze opposte per episodi assolutamente identici che sono stati sanzionati in modo assolutamente opposto così come noi qui a Milano abbiamo una situazione che è un po' particolare fino a due anni fa i fascisti venivano sistematicamente assolti per i loro gesti apologetici soprattutto nei cimiteri di Milano da due anni a questa parte invece vengono condannati per cui vi sono anche ribaltamenti di sentenze di primo grado con condanni in secondo grado le condanne sono minime perché si va al mese si va ai mille euro di multa ma è il significato non tanto l'entità della condanna per cui dipende dipende dai tribunali dalle persone e dalla capacità che si ha in una città o meno in un qualche modo di far presente le cose che accadono perché Milano è stata negli anni ultimi teatro di cose indecenti che hanno suscitato allarme nell'opinione pubblica e credo che abbiano suscitato anche allarme all'interno del tribunale per cui io leggo l'inversione di tendenza anche in questo modo qui e che cioè ci si è resi conto si è preso atto del fatto che succedevano delle cose che francamente non potevano essere semplicemente passate sotto silenzio o derubricate adatti di puro folklore noi abbiamo avuto mille neofascisti a fare il saluto romano nel cimitero maggiore di Milano noi abbiamo avuto cortei con le fiaccole e le bandiere stile Norimberga anni 30 che in alcuni quartieri peraltro residenziali del centro cittadino ha determinato apprensione per cui io credo che sia questa combinazione in questo momento però il terreno è quello della mobilitazione dell'informazione della denuncia non credo al momento che vi sia possibilità che vi siano soluzioni nuove di tipo legislativo grazie mille non so se adesso ci senti però se non ci senti comunque ti abbiamo scritto in chat le domande adesso io le leggerò la domanda che c'è perfetto perfetto se volete vado vado rispetto a questa domanda che è stata fatta il collettare non lateralismo è una delle caratteristiche del neofascismo in questo momento ok scusa facciamo solo la domanda allora la domanda ho detto che aveva iniziato forza nuova ma la cosa è stata assunta con un'altra dimensione ben più corposa da parte di Casa Pound ed è stata imitata da altri ancora che addirittura praticano gli stessi terreni perché il collateralismo avviene su dei temi che sono proprio studiati soprattutto in funzione di un interesse giovanile Casa Pound ha molte associazioni nel campo sportivo c'è l'associazione che si occupa dei motociclisti c'è le scuole di paracadutismo e di sub ma poi ha altri tipi di associazioni che servono anche per fare comunità la MUVRA che è l'associazione per come dire praticare il tracking e questa cosa è stata imitata anche da Lealtà Azione che ha fatto un'associazione identica che si chiama I Lupi delle Vette I Lupi I Lupi apro una parentesi è il riferimento simbolico da parte di Lealtà Azione perché loro si considerano un branco con un capo branco che è il capo alfa e in nome del branco denominano tutte quante le loro attività è il termine sempre I Lupi che vengono assunti come modo per poter dire siamo sempre noi una delle associazioni collaterali di Lealtà Azione si chiama Branco non casualmente però per tornare chiudendo la parentesi a Casa Pound si arriva all'ecologismo la foresta che avanza si arriva alla protezione civile per cui la protezione civile peraltro mobilita l'associazione che si chiama la Salamandra che è quella di Casa Pound e che nei momenti delle calamità naturali dei terremoti l'abbiamo vista operare soprattutto nel centro Italia non è un caso che in alcune elezioni amministrative in alcuni comuni che hanno visto la presenza della Salamandra vi sono stati anche dei risultati per le liste di Casa Pound vi sono anche associazioni collaterali più oscure più interne a un mondo chiamiamolo così di riferimento culturale Fons Perennis che recentemente è salita all'onore delle cronache che è un'associazione collaterale di Casa Pound che ha il compito invece di andare a ricostruire un po' le ascendenze ancestrali del popolo italiano e quindi si occupano dell'antica romanità si occupano dei riti pagani di un tempo della Roma antica e però sono stati presi con le mani nella marmellata perché nella sede di Fons Perennis che è stata ultimamente perquisita dalla Digos dalle parti di Roma sono stati trovati degli altarini dove vi erano le foto di Priebke e di Himmler e quindi questi riti pagani erano arrivati fino ai tempi del terzo Reich però il collateralismo è un modo che è stato assunto dal neofascismo italiano per potersi articolare e per potersi presentare non direttamente con la propria faccia e in questo modo poter entrare in relazioni più ampie di come può fare un'organizzazione politica Casa Pound è ipercentralizzata ma attraverso questa corona che si è messa attorno lo stesso tentativo l'aveva fatto Forza Nuova ma Casa Pound decisamente ha più successo si cerca di costruire il proprio consenso grazie Saverio adesso c'è un'altra domanda a cui potresti rispondere che è sempre in chat e che chiede dei rapporti tra la lega e la guerra e la pazienza dicevo già che nel programma politico di Casa Pound piega una parte degli stessi 14 punti del manifesto di Verona che è la nascita del partito fascista repubblicano è l'epoca in cui si cerca in un qualche modo da parte del regime fascista di resistere sul piano della tenuta di un consenso sociale quindi si fanno quelle operazioni di fascismo sociale che però non hanno mai avuto alcun successo al tempo e quindi si è copiato da parte soprattutto di Casa Pound quella parte in nome di una sorta di anticapitalismo di antisistema che è più di facciata che di sostanza o meglio se uno va a grattare l'anticapitalismo di forza nuova e di Casa Pound poi si arriva a capire che in realtà e in Casa Pound è del tutto evidente anche perché viene scritto che si vorrebbe semplicemente controllare e non superare il capitalismo si vorrebbe in un qualche modo cercare di limitarne gli aspetti più socialmente pericolosi ma non vi è il superamento del capitalismo tenete presente che per l'estrema destra il capitalismo è una cosa diversa da come lo si può concepire da chi ha un'ispirazione marxista il capitalismo per un marxista è un insieme di rapporti sociali di produzione per la destra il capitalismo è uno strumento di potere non è altro chi è che ha in mano lo strumento del capitale ha in mano il potere e il potere viene analizzato e lo si contrasta come magari fanno i neofascisti oggi in questo momento perché vedono che è in mano ad altri e oggi lo vedono in mano alle logge sioniste e quindi vi è un'analisi antimondialista di tipo antisemita vedono il capitale in mano ad altri per cui bisogna contrastarlo vedono un complotto ancora una volta giudaico ebraico massonico ma il capitalismo non lo si supera semplicemente lì è il tentativo di controllarlo o di possederlo così come i neofascisti si dichiarano antiimperialisti ma è anche qui addirittura un complesso di inferiorità perché si vedono altri paesi e altre nazioni capaci di svilupparsi in proiezioni anche geopolitiche su territori ampi e si vive con sofferenza il fatto che il proprio paese non è capace di esprimersi a questo livello e quindi semplicemente anticapitalismo e antiimperialismo sono semplicemente termini che vengono assunti ma hanno un significato totalmente diverso dal significato che hanno per chi ha una cultura di sinistra o davvero una cultura anticapitalista che vorrebbe superare l'attuale sistema economico e quindi è un'operazione di questo genere in cui si salvano anche le borghesie nazionali a scapito di altri tipi di borghesie che si vedono come pericolose perché operano sul piano internazionale con determinati traffici dietro c'è sempre una radice antisemita per cercare di dare un senso a queste parole d'ordine grazie staverio rispetto a quest'ultima domanda c'è l'ultima domanda nella storia del dopoguerra i neofascisti sono stati sussunti all'interno di progetti eversivi che vedevano in azione i vertici di alcuni apparati istituzionali in modo particolare militari delle forze armate non solo di polizia e di intelligence se uno dovesse cercare di individuare una cabina di regia della passata strategia della tensione la potrebbe individuare proprio come motore anche di tipo di indirizzo organizzativo negli stati maggiori dell'esercito e della difesa che sono quelli che hanno anche teorizzato la strategia della tensione lo hanno fatto con convegni incontri libelli e saggi che sono stati scritti i fascisti sono stati semplicemente sussunti come manovali per i lavori sporchi per poter fare certi lavori bisognava avere chi aveva un disprezzo assoluto non solo della vita umana ma di chi poteva rimetterci per una bomba su una piazza su un treno dentro una banca i fascisti sono stati proprio dei manovali da questo punto di vista perché i responsabili principali di questi progetti eversivi stavano comunque al di sopra di loro in pezzi anche delle classi dirigenti che sono stati più volte tentate da avventure eversive quindi la storia della strategia della tensione si dipana per i piani alti delle istituzioni italiane e delle classi dirigenti i fascisti sono stati una componente di un partito eversivo molto più articolato e molto più ampio oggi questa realtà non c'è più la strategia della tensione è stata sconfitta noi dovremmo anche ricordare che attorno alla metà degli anni 70 questi progetti sono stati battuti per tante ragioni sono stati battuti questi progetti per una capacità di mobilitazione delle sinistre dei democratici per una capacità di denunce di controinformazione che si è sviluppata e anche per delle condizioni anche di tipo internazionale che a un certo punto si sono determinate a metà degli anni 70 crollano i regimi fascisti nel Mediterraneo noi ci siamo dimenticati che negli anni 60 e nei primi anni 70 noi avevamo tre regimi fascisti tra l'Europa e il Mediterraneo Spagna Portogallo che era il più vecchio e il regime dei colonnelli in Grecia a metà degli anni 70 crolla il regime dei colonnelli in Grecia si avvia la rivoluzione dei Garofani nel 74 in Portogallo e alla fine del 75 c'è l'inizio del processo di transizione nella Spagna che dopo la morte di Franco avvia una sua trasformazione in senso democratico questo insieme al Watergate alla dipartita di Richard Nixon che è costretto a dimettersi e che mette in crisi il partito repubblicano i suoi riferimenti e i suoi orientamenti che sono orientamenti in Europa e segnatamente in Italia dietro le linee della strategia della tensione e cioè si creano delle condizioni per cui in realtà il progetto non riesce a passare viene fatto rientrare viene battuto si disarticolano anche le organizzazioni neofasciste sotto la pressione del movimento anche si è costretti a sciogliere alcune delle organizzazioni dei manovali dicevo di ordine nuovo e di avanguardia nazionale vi sono anche altri tentativi che vengono sciolti quasi immediatamente tipo anno zero che sta tra le due organizzazioni del scioglimento tra il 73 e il 76 oggi siamo in una situazione totalmente diversa non c'è un progetto di questo tipo non c'è un reclutamento dei fascisti all'interno degli apparati in funzione eversiva non c'è un tentativo di sovvertimento delle istituzioni repubblicane non siamo in quella fase e quindi abbiamo un neofascismo diverso che cresce in un modo diverso ci sono dei rapporti che sono se vogliamo di tolleranza da parte degli apparati e delle istituzioni ma ne abbiamo anche discusso prima vi è all'interno di alcuni apparati penso alle forze di polizia di involuzione pericolosa ma che è in corso da molti anni di involuzione antidemocratica cioè gli apparati delle forze dell'ordine sono ben lontani dall'essere degli apparati democratici la democratizzazione delle forze di polizia si è a un certo punto arrestata ed è ritornata indietro per cui vi è una tolleranza perché vi è anche un'assonanza dal punto di vista del personale delle forze dell'ordine rispetto a idee opinioni e nostalgie che vengono manifestate dai neofascisti sul campo e quindi vi è una situazione di questo tipo il problema dei rapporti con la mafia e le grandi organizzazioni criminali è un rapporto che è stato anche questo di tipo storico e cioè le grandi organizzazioni criminali in questo paese in più occasioni hanno fatto alleanze con i fascisti ci sono dei momenti anche di passaggio topici pensiamo alla rivolta di Reggio Calabria dell'estate del 1970 chi è che si muove è in modo particolare un'andrina quella di De Stefano che punta sulla politica per scalare anche le gerarchie interne alla drangheta e sostiene e si intreccia con i fascisti di avanguardia nazionale del fronte nazionale di una certa imprenditoria di Reggio Calabria che punta a un atto eversivo che viene scatenato nella città più povera d'Italia all'epoca Reggio Calabria è la città più povera d'Italia e che viene penalizzata nel momento in cui si avvia la Regione Calabria siamo nel 1970 le regioni che erano state votate in Costituzione vengono solo costituite effettivamente nel 1970 e vi è la scelta centrale governativa di fare di Catanzaro il capoluogo al posto di Reggio Calabria una città più povera d'Italia vi è un innesco addirittura provocato dai democristiani locali ma poi si aggiunge la drangheta si aggiungono i fascisti e vi è quel mix che determina una pagina particolarmente nera nella storia italiana e vi è un accordo quindi in quel campo e in quel momento così come pochi mesi dopo nel golpe borghese noi troveremo che i preparativi che furono fatti prevedevano anche un accordo tra la mafia e il principe nero Junio Valerio Borghese e a parlarne furono diversi esponenti della mafia che raccontarono di queste riunioni di questi incontri di questa disponibilità di fare un colpo di stato insieme ai fascisti che teniamo ben presente non vede solo il teatro di Roma perché qualcuno ha ridotto la vicenda del golpe borghese al solo teatro romano dove vi è l'occupazione per alcune ore del ministero degli interni in realtà come si è ricostruito non in modo completo ma sufficientemente plausibile in diverse parti d'Italia avevano migliaia di uomini che erano pronti per questa questa azione qui a Milano si mosse su Sesto San Giovanni che era la Stalingrado d'Italia una colonna militare e chi è che l'ha comandata ha raccontato nei tribunali io l'ho sentito con le mie orecchie il tenente colonnello Amos Piazzi di raccontarci che da Verona erano partiti per stroncare la città dei comunisti che era Sesto San Giovanni e che furono fermati così come fu fermato il golpe che fu fatto rientrare dopo alcune ore che era già stato avviato ma ecco anche lì c'era stato un rapporto con la mafia quindi con una grande organizzazione criminale oggi le cose non sono ovviamente più di questo tipo vi sono intrecci collaborazioni infiltrazioni anche a destra è ovvio perché succedono queste cose perché è ovvio che le grandi organizzazioni criminali guardano alla politica e al potere politico e guardano ai partiti che crescono quelli che nei sondaggi e nelle elezioni possono diventare uno strumento per poter realizzare i propri interessi in questo momento i fratelli d'Italia hanno avuto più di una vicenda di questo tipo per cui sono stati come dire oggetto delle attenzioni della magistratura il presidente del consiglio comunale di Piacenza il capogruppo in regione Piemonte ma anche in altre parti d'Italia si sono manifestati episodi simili ma questi sono in un altro contesto sono una storia diversa rispetto a quella del passato dove il rapporto con la politica è un rapporto di interessi e non è più un rapporto di tipo eversivo come abbiamo conosciuto soprattutto negli anni 70 agli inizi degli anni 70 allora grazie grazie Saverio Ferrari perché chiaramente il tema non finisce qui adesso ma chiaramente va approfondito noi invitiamo a seguire l'osservatorio sulle nuove l'osservatorio democratico sulle nuove destre di cui anche Saverio fa parte perché periodicamente pubblicano aggiornamenti notizie commenti di sentenze di episodi eccetera a questo proposito invitiamo a firmare la petizione contro la libreria Altaforte nel comune di Cernusco perché è ancora in corso questa raccolta quindi grazie davvero per la disponibilità restiamo in contatto grazie Saverio e dunque riprendiamo un attimo il discorso degli appuntamenti perché domani sera ventinove aprile duemila e ventuno noi dell'Ampi di Grugliasco abbiamo diffuso insomma una fiaccolata virtuale quindi da fare su facebook per i nostri martiri visto che non possiamo fare la sera le iniziative tradizionali storiche con le fiaccolate la musica il ricordo dei nostri martiri abbiamo detto ciascuno accenda una candela in casa cioè una cosa alla portata di tutti che possono fare tutti a casa loro accendete una candela in casa fate una foto e mettetela sui social mettetela su facebook taggate Lampi di Grugliasco con una frase del tipo ricordiamo i martiri di Grugliasco ricordiamo i 68 martiri una cosa che può fare chiunque dalle 21 dalle 21 l'appuntamento per tutti è dalle 21 per questa cosa poi gli appuntamenti li ripetiamo abbiamo il ricordo dei nostri martiri abbiamo domenica 2 maggio la grande famiglia partigiana come discendenti dei 68 martiri e abbiamo il 9 maggio la commemorazione al cimitero monumentale di Torino al mattino dei partigiani sovietici caduti al fianco dei nostri nonni e dei nostri bisnonni qui in Piemonte allora l'impegno antifascista prosegue chiaramente questo ciclo ci ha di nuovo fatto capire che dobbiamo studiare dobbiamo formarci dobbiamo saperne di più e a qualche a qualche dirigente che dice che i giovani dell'AMPI o anche la nostra sezione insomma sono un problema insomma un po' estremisti un po' troppo sopra le righe noi rispondiamo che come abbiamo visto in diretta dal vivo questa sera i giovani risolvono i problemi in corso anche quelli che noi non siamo in grado di risolvere quindi grazie Riccardo perché stasera hai veramente risolto problemi tecnici e comunque contribuito a gestire la serata nonostante queste difficoltà quindi davvero parliamo di grandi potenzialità ecco perché le nuove generazioni sono una grande risorsa una grande potenzialità sul piano dell'attività antifascista dentro l'associazione quindi grazie Saverio grazie a tutto l'osservatorio democratico sulle nuove destre ci incontreremo sicuramente in futuro perché come abbiamo sentito di cose da fare ce n'è veramente tante ciao Saverio ciao e grazie ciao ciao ciao